CERVED Rating Agency conferma il rating a 3.1 di Estra sulla base dei risultati economici conseguiti nel 2018 e finanziari nel 2019 dalla multiutilità energetica. Estra Energie si è aggiudicata la gara di Conf Servizi CISPEL Toscana per la fornitura di un anno di gas naturale per 3.800.000 m3 per uso civile e per autotrazione. Lo segue la campagna? Estra ti avvicina e ti informa sui bonus sociali luce e gas. Estra ha distribuito nel 2018 26.000 bonus a famiglie in difficoltà per una riduzione media delle bollette di circa 100 euro annue. Una grande mostra sui costumi di Pinocchio che Massimo Cantini Parrini ha realizzato per il film di Matteo Garrone. I costumi sono esposti al Museo del Tessuto di Prato grazie anche al contributo di Estra.